Permettetemi di dire che se amate lo sport al femminile, amate le atlete, coloro che hanno scritto due volte la storia, uno gareggiando, una volta gareggiando, una volta cercando di gareggiare per raggiungere, per affermarsi, per affrancarsi da situazioni che le marginavano dallo sport, questo è un libro che vale la pena leggere meglio, sono due volumi, adesso sta uscendo il terzo, Florindo di Monaco, lui è un docente, insegna lettere, ha una passione non solo per lo sport ma per il mondo femminile e per la grande fatica che le donne hanno dovuto fare negli anni per riuscire a raggiungere posizioni che gli uomini avevano già, quindi merita, prima e secondo tempo, la prima è dalle origini agli anni 60, la seconda va fino al 2010 e poi arriverà quello ai giorni d'oggi, se amate questo, complimenti, davvero Florindo, complimenti.